Oggi un altro scivolone di bitcoin dopo quello di qualche giorno fa, di qualche settimana fa ragazzi, meno 3,50 circa, meno 3,60 dall'inizio della giornata, 24 ore, meno 3,62 quello che era avvenuto il 14 luglio, quindi a distanza di una decina di giorni altro scivolone di bitcoin ma soprattutto breakout questa volta sembra avvenuto della barra di congestione che aveva bloccato il mercato cripto, quello che vedete qui a parte i miei disegni impossibili, l'aveva bloccato per un po' di tempo, segnale negativo assolutamente sì ma segnale che ciclicamente è anche atteso Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi andiamo a fare il punto della situazione di breve periodo, abbiamo fatto quello di lungo la scorsa settimana, oggi parliamo invece di quello di breve perché ci sono una settimana con una serie di dati in uscita che sono importantissimi bitcoin che sta facendo questo dampone, vediamo cosa sta facendo, quali sono le due possibilità cicliche, sono tutte e due estremamente interessanti con delle date assolutamente indicate in maniera abbastanza probabile quindi c'è più lucidità dopo questo tipo di movimento perché il mercato ha dato una direzione, poi vediamo un grafico che è quello di bitcoin contro nasdaq, quello famoso, vi ricordate che abbiamo guardato a novembre che ci indicava quello che era il ciclo annuale di bitcoin molto prima, vediamo cosa sta facendo perché è una cosettina interessante da guardare c'è, è un video assolutamente iper operativo ed è molto molto orientato a quello che succederà nei prossimi giorni, quindi di breve prima però di andare avanti, prima di andare avanti arrivano le offerte perché oggi ragazzi è l'ultimo giorno del summer per friday che sono le offerte dei corsi per chi vuole studiare in questa fase delle vacanze con una super super veramente prezzo che non facciamo praticamente mai tringone lo fa mai ed è adatto proprio in questo momento per gli studiosi estivi con il caldo, quindi è una cosa che già ho detto più volte mancherò però solo sei ore ragazzi, dopodiché queste offerte finiranno e poi se ne parla penso verso la fine dell'anno ma sicuramente non saranno così incisive, allora molto importante quindi chi di voi si vuole formare, chi di voi vuole eliminare la confusione vuole avere le idee chiare proprio in questa fase che sono delicate, oggi vedremo proprio in questo video ragazzi come questa fase è interessante da un punto di vista anche operativo a livello di trading, percorso di formazione Basic 2.0 con i vari pack è quello che vi consiglio vivamente, anche il pack premium per la questione del modulo della gestione del portafoglio crypto perché nei prossimi mesi se le cose dovessero andare bene soprattutto con l'eventuale bull run potrebbe essere interessante essere formate ricordatevi che queste cose dovete farle prima perché se non avete un piano strutturale, una formazione adeguata quando parte il treno è impossibile operare, lì dovete poi formarvi e aspettate il prossimo treno ovviamente però è una cosa che non è mancata quindi questa cosa chi è formato già la sa chiedete a chi è formato ve la potrà dire tranquillamente perché quando i treni passano bisogna essere pronti basta un niente per non essere preparati e ci spugge il momento, i mercati sono così, sono veloci, sono spuggevoli vi resta il link in descrizione, ultime ore poi stasera si chiude tutto e non ce n'è più di queste offerte ragazzi ok? Allora andiamo a vedere la questione di bitcoin, volevo farvi vedere questo grafico qui allora la questione ciclica inizierei, anzi facciamo così, siamo prima nelle news che sono molto veloci e sono anche molto molto interessanti, allora qui abbiamo ragazzi le news della settimana è importante la giornata di mercoledì 26 con la questione delle decisioni del FONC e del tasso di interesse della Fed anche se è assolutamente scontato, giovedì abbiamo l'ira di Dio di dati compresi i PIL degli Stati Uniti il tasso, decisione dei tassi della BCE, la conferenza stampa della BCE, insomma le solite cose anche se devo essere sincero questa settimana secondo me i dati però hanno confermati su quelle che sono ormai le attese vi faccio vedere le attese soprattutto per quanto riguarda la Fed, il tasso in rialzo dello 0,25 praticamente è dato per certo quasi matematico solo l'1,4% pensa che non sarà rialzato quindi parliamo veramente di un tasso in rialzo quasi a livello matematico fate comunque molta attenzione anche alla valutinità che si potrebbe andare a creare le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 c'è da dire che queste due giornate si vanno a configurare in maniera estremamente corretta con quelle che sono le giornate da un punto di vista ciclico proprio in addirittura di arrivo di questa fase qui è una fase interessantissima da un punto di vista di holding quello che utilizziamo in Academy ragazzi cioè l'holding non è un holding classico come quello che immaginate cioè un holding fatto così per all'infinito senza senso è un holding che io nel modulo del portafoglio cripto ho chiamato holding intermittente cioè andiamo a spezzettare questo hold con la uscita da Bitcoin e poi il rientro quando ci sono le condizioni di mercato è complesso però bilancia molto la volatilità e soprattutto elimina i rischi di questi momenti di ribasso siamo fuori da un po' di giorni e 30.200 il prezzo di uscita se il mercato continuerà a scendere resteremo probabilmente fuori proprio da questo momento per un po' di mesi e anche può essere anche per tutta l'estate questo per darvi una posizione in termini più lunghetti invece da posizione di breve ci sono delle opzioni ovviamente ragazzi se poi il sistema rientra che fa il ringresso lungo noi eseguiamo nella macchina le ultime operazioni non sono andate benissimo tra le altre cose perché ogni tanto prende i stop però quest'ultima per esempio ha già fatto risparmiare una fase di bassista discreta non pesantissima però comunque rilevante allora andiamo a vedere la questione legata alla struttura ciclica struttura ciclica che a questo punto si divide in un ciclo trimestrale che può essere ancorato ai tre mensili che vi avevo indicato in tempo in memoria ormai veramente da tanto giorni sembra che il mercato segua questa view era una view che io ho sviluppato facendo una serie di analisi congiunte con diversi grafici non solo quelli che vediamo nei video youtube ma anche altre cose e stavo seguendo questa view cioè la view dei cicli di natura ternaria questa struttura di due mensili legati da un punto di vista ternario questo minimo di oggi questa fase di bassista di oggi pone il problema che anche e qualora dovesse iniziare un nuovo ciclo mensile non potrebbe essere al rialzo ma dovrebbe fare o un doppio minimo o un minimo inferiore ai precedenti ma non è solo questo perché il ciclo mensile in questione quindi la struttura di un mensile corto si definisce così in termini ciclici o un bisettimanale lungo chiamatelo come vi pare in pratica non è ancora arrivata perché noi qui siamo molto molto precoci da un punto di vista ciclico in quanto è verso sabato quindi a fine di questa settimana che si va a delineare la possibilità di una cucciola ciclica seguendo questa view c'è un'altra view che è una view di natura binaria che ragiona in termini di un ciclo trimestrale diviso a due e non a tre mesi in questo caso e solo in questo caso ragazzi siamo al minimo di oggi a 39 giorni quindi teoricamente si potrebbe andare a configurare un 42-44 giorni quindi sempre intorno al fine settimana questo potrebbe essere la metà di una struttura ciclica trimestrale intera da 80 giorni 90 giorni circa e solo in quel caso un eventuale rimbalzo da questo punto potrebbe essere più consistente quindi se siamo nella view in questa view che vi sto dicendo il rimbalzo che potrebbe avvenire verso la fine di questa fase in questa settimana potrebbe essere poi più consistente questa settimana invece sembra un po' spacciata laterale ribassista o ribassista se scenderà troppo il mercato può essere che accorci questi tempi di qualche giorno e quindi magari fa una fase più di ribasso e troppo veloce e quindi accorcia i tempi però io aspetterei almeno mercoledì barra giovedì per cantare vittorie di questa fase vediamo se il mercato resiste almeno nella giornata di domani inizia a fare un laterale perché adesso possiamo anche indicare quali sono i punti di arrivo tra le altre cose c'è una strategia in academy che stiamo utilizzando che ha indicato dei punti di arrivo che sono abbastanza lontanucci anche da questi prezzi di questa fase ribassista cioè dei punti di arrivo che oscillano intorno a zona 28.000 27.000 e qualcosa quindi in pratica un punto d'arrivo di questa settimana che potrebbe andare a arrivare fino a questa zona qui più o meno questo significherebbe vedete qualche giorno di ribasso poi un allungo finale fatto in questo modo quindi la situazione è un po' delicatuccia bisogna stare molto attenti in questa fase come vi dicevo perché il mercato facendo un break consolidato di una barra di congestione ovviamente innesca una fase ribassista tra le altre cose per gli amanti dell'analisi tecnica si può anche tentare di indicare diciamo il livello di target a livello geometrico come si faceva con i vecchi io non amo queste cose però in questo caso vedete coincide esattamente con i 27.000 e 8.000 28.000 quindi è giusto per indicarvi che quella potrebbe essere un'area target forse un po' troppo scontata vediamo se il mercato la rispetterà io non amo molto queste cose perché penso sempre che il mercato è randomico fa quello che vuole quindi mi preparo sempre a più scenari ma non vado a seguirli poi alla lettera bensì ragiono sempre su cosa il mercato fa di giorno per giorno in ogni caso questa è una zona di fase ribassista questo punto di snodo a fine di questa settimana è un punto operativo perché qualora noi fossimo nella versione uno che vi ho detto ciclo a tre tempi il prossimo mensile è debole insieme a questi e deve andare a chiudere poi un 60-65 giorni qualora invece noi fossimo nella versione con un trimestrale diviso a due molto lungo diviso a due ci potrebbe stare la possibilità per bitcoin di poter muoversi un po' più forte da questo punto e quindi fare magari una cosa del genere e quindi questa zona qui da un punto di vista di trading rappresenta il nostro obiettivo di trading di breve breve significa entro metà del mese di agosto quindi non brevissimo ovviamente ma non è un lungo periodo in quel caso solo in quel caso quindi potrebbe essere importante potrebbe essere utile andare ad assumere delle posizioni a inversione di trend nel tentativo di prendere appunto questa fase di alzista verso la fine settimana quindi è interessante per chi di voi fa trading se si protegge, se sapete come farlo se avete dei trading plan tutto il resto potete utilizzare queste informazioni per gestire meglio quelle operatività e magari cercare dei punti di ingresso che vi consentano di minimizzare i rischi con dei stop loss molto stretti e poter magari salire su questo carro che perché no magari quel più 7, più 8 potrebbe anche farlo poi di rimbalzo ed è utile soprattutto poi se usate la leva ma la leva non si usa massimo leva 2 ragazzi è solo per gestione della posizione non per fare sfeculazione io questo ve lo dico da una vita e poi non sono consigli finanziari ovviamente so che poi molti di voi non fanno così e che pareva? figurati va bene detto questo come un cattivone di bond adesso andiamo a vedere un po' di altri grafici tra cui quello che vi ho promesso che è quello dell'analisi legata al grafico di Bitcoin contro Nasdaq allora Bitcoin contro Nasdaq ragazzi se vi ricordate Bitcoin contro Nasdaq questo spreadone gigante aveva indicato nel mese di novembre 2022 proprio il minimo vero di Bitcoin lo aveva indicato con una precisione disarmante time frame quickly perché non serve a livello operativo questo grafico quindi va benissimo strutturarlo in questo modo con tre onde si era andato a chiudere questo ciclo annuale su Bitcoin Nasdaq e in pratica vedete erano tre onde abbastanza evidenti e poi da qui è iniziata una nuova struttura struttura che sembra aver fatto sembra aver trovato il suo minimo in questa settimana qui e quindi nella settimana di luglio e giugno 2023 poi questo è dovuto anche all'impennata di Nasdaq molto forte non tanto al ribasso di Bitcoin ma all'impennata di Nasdaq molto forte dopodiché c'è stata questa struttura struttura un po' pericolosa perché è salito Bitcoin nelle scorse settimane Nasdaq no e quindi ci siamo livellati di nuovo a questo livello di pricing di struttura però ragazzi cosa succede qui abbiamo due punti che dobbiamo sempre guardare alcuni diranno sempre due sempre due esatto due non ce ne sono tre ce ne sono due ragazzi nelle analisi degli scenari sono sempre due punti allora questa zona è un minimo e questa zona è un massimo a questo punto nei prossimi giorni è importantissimo comprendere te regge o meno questo minimo perché se questo minimo non dovesse reggere e questo spread fa una cosa del genere significa che il mercato cripto si indebolisce moltissimo perché probabilmente tutto questo ciclo annuale ha già trovato la sua fase di massimo in questo punto a quel punto per fare un gioco di parole fino a fine anno Nasdaq potrebbe essere più forte di Bitcoin non è detto che Bitcoin sia debole può essere che Nasdaq è fortissimo ragazzi perché siamo arrivati ai massimi storici vi faccio vedere il grafico di Nasdaq 100 quindi potrebbe semplicemente essere fortissimo Nasdaq e non debole Bitcoin vedete che siamo arrivati in questa zona zona che però è pericolosissima per quanto riguarda la questione dei ritracciamenti di Fibonacci perché coincide con una struttura di pricing che è circa vicino al 78,6 di Fibbo anche se poi in realtà è stato breccato però è una zona pericolosa questa qui di un eventuale doppio massimo ma Nasdaq potrebbe continuare semplicemente questo trend continuando questo trend potrebbe essere più forte di Bitcoin tutto qui ragazzi e quindi innescare una struttura a spirale laterale discendente del grafico Bitcoin Nasdaq e indicare forza relativa migliore di Nasdaq contro Bitcoin quindi dei tech classici rispetto alla questione cripto e fare una cosa del genere allora questo lo sapremo se questo minimo non regge al contrario se invece fa un po' cincischi e poi prova e brecca questo livello di massimo allora è il contrario perché questa struttura verrebbe ad essere un'indicativa di una fase di respiro ma soprattutto di un nuovo trend dopo questa fase discendente un nuovo trend che a quel punto ha tutte le carte in regola per andare a breccare questo livello di massimo indicando a quel punto che Bitcoin potrebbe essere invece più forte di Nasdaq fino alla fine dell'anno quindi vedete questo grafico ancora una volta molto indicativo e molto importante tra le altre cose si sta andando a configurare una figurazione classica di 40 60 giorni che io mi tengo in disparte diciamo così mi tengo per jolly perché perché questa zona potrebbe essere un'anomalia di un bi mensile o trimestrale che crea una lingua di buyer corta o in barra di congestione quindi un'anomalia che poi fa ripartire il nuovo ciclo questa struttura fatevi uno screenshot se si va a verificare è un capolavoro ciclico si definisce così ed è molto interessante anche da andare a guardare e analizzare non dovete tradare queste cose io quello che vi sto dicendo qui sono delle informazioni per formazione e per imparare a guardare i grafici e soprattutto a leggere quello che i grafici ci dicono senza andare a ragionare su cosa vogliamo noi quindi cosa aspettare cercate di essere più più open your mind più puliti possibili senza opinioni vostre personali ma guardando quello che sono i grafici guardando quello che il mercato ci sta andando a indicare questa secondo me è la view più interessante che configurerebbe se così fosse quindi una debolezza di bitcoin rispetto a nasdaq ancora fino alla metà di agosto e quasi coincide con quello che ci siamo detti prima bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video estremamente interessante molto ciclico molto di breve periodo inteso alla mio breve periodo non scalping certamente quindi mensile le offerte ve le ricordo ragazzi veramente imperdibili ultime 6 ore poi chiudono le offerte non vi fate scappare queste offerte sui corsi se volete formarvi e volete aumentare il vostro background culturale e soprattutto capire che cosa state facendo eliminando tutta la confusione link in descrizione buon inizio settimana e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao